ciao ragazzi oggi voglio fare una pizza deliziosa dammi una caramella ho l'impasto per due pizze ma ne faccio soltanto una che cosa potrei fare con l'altra bene dalla me ci penso io ok e tu quindi ecco l'impasto avremo anche bisogno di un po di ketchup marmellata mia niente marmellata sono solo pomodori forse una caramella no ok prendiamo il ketchup e mettiamolo sull'impasto in questo modo sì beh una pizza senza caramelle non è altro che tu non sai niente della pizza spargerò il ketchup su tutto l'impasto ecco proprio così non hai messo abbastanza marmellata di pomodori non sono sicura faccio io aspetta solo un secondo sam sam fermati basta oh sì altra marmellata ancora evviva sì sì dai ancora sam basta 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 adesso calmati la spalmerò da solo dammi qui ma sam questo è un lavoro per me non mi piace molto l'odore ma deve impregnarsi proprio bene ora una bella botta questo sì che marmellata sam che cos'è tutto questo casino ti sto aiutando mi dai la caramella vai via show ha fatto un casino e vuole anche la caramella adesso devo pulire tutto ok adesso pulito tutto fatto adesso la pizza ha bisogno di caramella no falla finita per fare una pizza deliziosa abbiamo bisogno del salame mettiamolo bene sulla pizza in questo modo in un cerchio ho bisogno devo prenderne un pezzo dicono che è delizioso ma è già finito l'avrai mangiato oh dai sam smettila ci serviranno anche dei bei pomodorini prendiamo questi qui per la nostra pizza e tagliamoli sembrano caramelle no sam queste non sono caramelle sono pomodori ma dove sta il divertimento non tagliarti le dita altrimenti non puoi fare la pizza non ti preoccupare sto attenta ti ho parlato delle mie avventure sui monti del tibidabo ciao ne sam ok disponiamo i nostri pomodori in questo modo è perfetta senti se sembrano caramelle forse è meglio usare caramelle veri no se me non sostituiremo nulla con le caramelle adesso vattene mi stai disturbando ma che cosa sono sono funghi sem funghi funghi non possiamo farne a meno possiamo ma non oggi mettili sulla pizza coraggio finora sta venendo bene ma manca qualcosa bene avremo bisogno del formaggio ma dove era la grattugia oddio dove stava ecco forse era sam che cosa stai facendo qui io volevo aiutarti tu hai bisogno della grattugia giusto ho bisogno della grattugia ma sono abbastanza sicura che stavi cercando delle caramelle giusto vabbè vieni con me bene ho recuperato la grattugia adesso posso grattugiare il formaggio cos'è questo sam bene per la tua pizza senza caramelle devi cospargere qualcosa beh grazie mille semi ma ci metto il formaggio formaggio questo formaggio ma puzza ma che cosa c'ha e vabbè la pizza è pronta ed è ora di cuocerla bene mettiamola nella teglia in forno per 10 minuti ah mi piace guardare il formaggio che si scioglie guarda fa le bolle è ora di tirarla fuori esatto sammy la pizza è pronta ed è ora di provarla non sono sicuro e senza caramelle userò questa rotella taglia pizza per farla a fette beh non è che la rotella cambi qualcosa eh beh almeno annusa no puzza no non la mangerò mangia ma che gli prende la pizza è deliziosa chi è d'accordo metta un pollice in su ne facciamo una sam sono tutta orecchie certo che lo sei giusto giusto è così pesante ok ecco la marmellata e le caramelle quelle gommose ecco l'impasto della pizza beh va bene è rotonda come una caramella ci sto adesso prendi la marmellata buona un odore delizioso devo provarla e rimettila a posto è per la pizza ammazza che egoista mettila dappertutto lo sto facendo adesso è dappertutto bene dal momento che è la mia pizza voglio fare metà con il cioccolato non hai paura di ingrassare no lascia che la metta io dappertutto così sam smettila ma guardati che c'è non puoi creare un capolavoro senza fare un po di casino altro che capolavoro vieni ti ripulisco si e non dimenticare la spugna oh si adoro il bagnetto devo sempre fare tutto io non è vero apriamo quelle gommose su tutte fuori vi metto tutte nella pizza devo mangiarne una va bene va bene ce ne sono abbastanza per te per la pizza ecco fatto non dimenticarti queste no staranno bene con la marmellata metto qua mettiamole bene ehi ragazzi avete dimenticato di iscrivervi vero e di cliccare sulla campana grazie tante da sammy bene la pizza è quasi pronta ma manca qualcosa dobbiamo cospargerla con qualcosa formaggio per esempio giusto forse ci vuoi mettere pure il salame ma non puoi cospargere la mia pizza con cose simili un secondo ecco qui dai metti questi li sto mettendo fighissima facciamo una foto certo solo un momento rimani fermo wow ma che cos'è è una polaroid devi dire ci s... ah scusa caramella e lei fa una foto fighissimo ecco guarda sono bello vero? beh anche la pizza sembra buona come se ci fossero dubbi ragazzi vi piace la mia pizza? se è così datele un pollice in su e portiamo questo video a 20.000 pollici in su buonissima è tempo di mangiare posso solo assaggiarne una fetta? sì ma piccola non basta neanche per me sì ma piccola non basta neanche per me sì ma piccola non basta neanche per me